Sicuramente sapevamo che era un avversario forte, abbiamo visto anche gli Highlights contro l'Alitalia, erano veramente una buona squadra. Noi l'abbiamo preparata bene, siamo stati come nella prima partita compatti, siamo stati uniti, abbiamo avuto le nostre occasioni, le abbiamo sfruttate e siamo stati contenti anche perché abbiamo fatto un'ottima prestazione dietro, visto che abbiamo subito zero gol quest'oggi. Sono contento della prestazione che ho fatto anche sotto l'aspetto difensivo, è quello che mi chiede il mister, poi ho anche fatto un gol, ma è stato importante il risultato che abbiamo ottenuto, sono stati altri tre punti importanti per la classifica. Volevo fare un agudo speciale alla mia carissima amica Federica che oggi, visto che mai è passata la mezzanotte, fa 18 anni e gli vanno un grosso bacio.